La seconda gara in programma oggi sempre con la Virtus Ortona, campionato provinciale, categoria esordienti a 9, Virtus Castelfrentano da questo lato, c'è mister Roberto Verna, la seconda gara, la prima è stata vinta sempre dalla Virtus Ortona, non vorrei sbagliarmi per 3 a 0 mi pare, 3 a 1, non lo so, ma comunque il risultato è relativo, basta che si divertino e che venga rispettato il programma delle gare previste dalla federazione, stanno riscaldando, questa da come si vede è la squadra più big, è il gruppo big degli esordienti, da quest'altro lato c'è la squadra della Virtus Ortona, si stanno riscaldando pure loro, sta dando gli ultimi consigli, l'arbitro, l'arbitro, il loro mister, da quest'altro lato pure c'è il gruppo, c'è mister Giulio Massimini che sta allenando sto gruppetto dei ragazzi, tra pochi minuti comincia l'incontro e lo dirige sempre il sottoscritto, adesso è arrivato anche mister Giuseppe Gianchistoforo, vediamo con il berretto giallo, mister Simone Giordano, mister Roberto Verna sta in forma, sono gli esercizi di riscaldamento, in quanto oggi tira un po' di vento, l'aria è un po' freschetta, ma è sempre buono per giocare a presto, adesso siamo all'indasco, adriano? Grazie. 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 Grazie.